segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te prima di andare un attimo a odessa perché c'è un aggiornamento importante dalla nostra in tempo reale dalla nostra paola mascioli un solo breve ragionamento per motivi che non vi sto a dire conosco bene le leggi razziali del 1938 in italia se itler fosse stato di origine ebraiche sarebbe dovuto andare anche lui in campo di sterminio secondo le leggi italiane non quelle non quelle tedesche e si tratta di una fesseria col botto ma per di più oltraggiosa perché evidentemente mette tutto sullo stesso piano ma perché ci colleghiamo subito adesso con paolo mascioli perché come